e allora signore e signori è arrivato l'impianto mpe direttamente dalla casa adesso lo stiamo aprendo già il primo abbiamo aperto già è tutto montato cosa si vede tanto bene ma è veramente eccezionale bellissimo da vedere molto facile da montare adesso stiamo andando a capire il secondo pilone è arrivato sul bancale così non è tutto imbottito adesso voglio capire la garanzia direttamente dalla casa tutto garantito due anni e poi riparo spigoli per non avere problemi durante il trasporto così andiamo a togliere la carta sopra il cellophane abbiamo lo stativo a montare esattamente sotto il sub questo già l'abbiamo attaccato il primo sono le compact 15 della mpe veramente molto bello da vedere andremo a montare il supporto direttamente sopra il sub molto definiti in tutto anche il portaperno per non dare fastidio quando l'abbiamo inventato da entrato lì dentro così non fa rumore per fare questo tipo di rumore e adesso già andiamo mettiamo il terzo buco adesso andiamo a preparare l'altro satellite sempre tutto impacchettato bene io non so il tempo che sto aprendo tutto sto anche riprendendo facendo un po difficile a fare tutte le due cose ma ci prova al meglio ricordo che un prodotto made in italy rigorosamente italiano qui arriverà tutto la cavetteria qui dentro andiamo ad aprire facendo tutto con una mano e qui c'è il cavo spicon bello lungo due metri e poi abbiamo il cavo di alimentazione poi ci sono i bloc a cavo che vengono attaccati come ci ho messo nell'altro così e questo è qua così il cavo si mantiene bello che è pulito e sistemato continuato e qui c'è poi la parte sopra la testa sopra che adesso andò ad aprire e qui c'è l'altro spigolo che andiamo ad attaccare sopra proprio sopra eccolo qua e qui questa invece è la parte sotto nell'ampri la parte sotto del sub così facile facile tutto facile montarlo è velocissimo e poi ci sono i fermacavo che vengono montati nell'asta così uno e l'altro eccolo qua perfetto basta montarli così e poi il cavo verrà inserito in questo modo uno e due e il gioco è fatto l'impianto è montato l'impianto